Musica Mercoledì 21 agosto, buongiorno e bentrovati con il TGL News. In soli sei mesi sono 82 le imprese del settore dell'artigianato che hanno dovuto chiudere i battenti proprio qui a Piacenza e Provincia a fronte di appena 12 nuove imprese nate. L'artigianato piacentino frena bruscamente in linea con quanto sta succedendo nel resto della nostra regione, una moria che dura da una decina d'anni e che è costata sangue anche appunto nella nostra provincia e nelle città vicine come Parma e Reggio Emilia, pressione fiscale ed eccessiva burocrazia penalizzano infatti il settore. Un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti è stato aperto dalla Procura in merito all'infortunio sul lavoro costato la vita al manovale quarantenne di origini croate Rudy Snyder. Si tratta come sempre, avviene in questi casi, di un atto dovuto a tutela di tutte le parti in causa. L'uomo nella mattinata del 16 agosto scorso si trovava a Piacenza dove stava eseguendo un lavoro come libero professionista. Era salito su una scala a circa due metri e mezzo di altezza per verniciare un manufatto quando era improvvisamente caduto battendo il capo. Intanto ieri pomeriggio in ospedale è stata effettuata l'autopsia sulla salma dell'operaio. I risultati saranno vagliati da investigatori e magistrato con lo scopo di verificare che tutte le normative relative alla sicurezza siano state rispettate. Ancora cronaca, ha prenotato una camera in un albergo di Piacenza ma quando il suo nome è stato registrato un segnale di allarme è arrivato direttamente alla questura. Il 52enne albanese in questione era già stato espulso dall'Italia nel 2017 ma era tornato nello scorso anno per poi essere nuovamente rimpatriato. Impatriato alla polizia ha giustificato la presenza dicendo che doveva andare al funerale del nipote. Il processo è stato rinviato all'8 ottobre e nel frattempo non essendo stati trovati parenti che potessero ospitarlo è stato tradotto in carcere. Chiudiamo con lo sport. Mentre il Piacenza sta per esaurire la fase di preparazione in vista della prima di campionato di domenica prossima a Vicenza contro l'Arzignano, in casa Biancorossa proseguono i febbrelli, i lavori di restyling dello Stadio Garilli. Proprio oggi infatti inizia la vera fase di installazione delle sedute che interesseranno i settori di tribuna e distinti. L'obiettivo è quello di arrivare a 7-8 mila per la prima gara casalinga dei Biancorossi. A tal proposito, seppur ancora non ufficialmente, la sfida con il Modena prevista per domenica 1 settembre sarà anticipata a sabato 31 agosto con calcio d'inizio fissato alle 20.30. Questa è la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15. Buona mattinata.